Ci troviamo a San Vito al Tagliamento e qui abbiamo dei fiori di zucca che ci ha preparato la Daniela. Perché ci ha preparato il fiorio di zucca? Perché Efasce, Pordenonesi nel mondo, ci ha coinvolto in questo progetto che si chiama Saporia Nord-Est. E quindi parleremo dei cibi tipici del Friuli Venezia Giulia con i vini tipici del Friuli Venezia Giulia. Ci sta. Ci sta perfettamente. Quindi io intanto ringrazio Daniela perché ha fatto questi fiori di zucca fritti, ma a me adesso viene spontanea una cosa. Cosa ci beviamo? Anche perché ci sono i bicchieri, qualcosa dobbiamo abbinarci. Ah, pensavo acqua. Acqua. Ci abbiniamo una bella ribolla gialla e precisamente la ribolla gialla di Collavini. Eugenio Collavini, il fondatore. Spumandizzata con il metodo Collavini, che tu ben sai non è né il metodo classico né il metodo Martinotti. Allora, io ben so, è poco. Non so come sia il metodo Collavini. Parte dal metodo Martinotti, ovvero il vino base, il base spumante viene messo in autoclave. Ma l'autoclave non è come tutte le altre autoclavi del metodo Charmat. Ah, è orizzontale. È orizzontale. Giusto, giusto. E non solo, pensa che per l'intera durata della sosta continua a ruotare lentamente ma sempre in movimento. È proprio un metodo loro, non per niente si chiama con il loro nome. Quindi loro sfruttano la sfumantizzazione della massa grande, come il metodo Martinotti, con i lieviti sempre in movimento e in maniera orizzontale, come fanno le bottiglie del metodo classico. Allora, mentre tu apri la bottiglia, io vi dico che questa non è un'azienda che si è svegliata vent'anni fa. Questa è un'azienda che nel 1896, Eugenio Collavini, ha fondato questa azienda e la prima cosa che si sono messi a fare è fornire bottiglie di vino di alta qualità ai nobili della zona. Insomma, quindi sicuramente in quel momento già stiamo parlando di prodotti di un certo livello. Sì, poi loro approva che la Ribolla Zalla è il suo punto di forza. Pensa, sai dove sono? Dove hanno l'ubicazione? Allora, sono a Corno di Rosazzo la città. Ma la via non me la ricordo. Guarda, provo a vedere se lo vedi qua. Secondo me è via Ribolla Gialla. Cioè, questi sono in via Ribolla Gialla. Più chiaro di così non si può essere. Quindi se un giorno andate a Corno di Rosazzo, se non vi viene in mente qual è la via, è via Ribolla Gialla. E poi c'è un'altra particolarità. Pensa che quando si fa un metodo classico si parla di quanti mesi sosta il vino sui lieviti. Loro vanno invece a cicli lunari. E questo fa ben 30 cicli lunari in autoclave. Stiamo parlando di un vino che ha preso i tre bicchieri anche quest'anno qui. Quindi ha un profumo spaventoso. Pensa che l'ho bevuto al mio compleanno, come tu sai. Quindi insomma sono al di sopra di ogni sospetto. Ma non l'ho assaggiato con i fiori di zucca. Non ce l'è che provare. Non ce l'è che provare. Ne prendo uno piccolo perché non vorrei esagerare visto che l'ho già mangiato prima. Per fortuna la dieta all'inizio domani. Esatto. Senti com'è croccante? Mi ha spiegato Daniela che per farlo così in croccante bisogna usare non solo farina 00 ma anche la farina di viso. Beh allora l'abbinamento è perfetto. Fritto. Il fritto è bollissima. È stupendo. Il prodotto è fatto straordinariamente. Il vino è eccellente. Sai cosa ti dico? Io avrei voglia anche di assaggiare qualcos'altro magari prossimamente. È una promessa che ti faccio. Non sarà il primo video che facciamo con il Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo molti altri perché questo è un progetto che andrà avanti parecchi mesi. Quindi vi invito a visitare il blog di Daniela che si chiama We Cook at Home e credo che nei prossimi giorni ve ne racconteremo delle belle. Invece vi invito a provare l'abbinamento perché è straordinario. Sì. Sì.